è finita ragazzi è finita all'olimpico che sofferenza veramente che sofferenza risorto finale 2 a 2 quindi un pareggio tra Roma e Juventus ma per come si è messa la partita io questo lo definisco un punto d'oro un punto d'oro non tanto perché sì la Roma è una grandissima squadra comunque giocava in casa e allora già questo ti fa capire che anche un pareggio non è mai scontato cioè a Roma si può anche tranquillamente perdere quindi è un punto d'oro per questo ma soprattutto è anche un punto d'oro perché la Juventus sulla situazione del 2 a 1 Rabbio si fa buttare fuori dal campo quindi sostanzialmente la Juve sul 2 a 1 gioca anche in 10 gioca anche in 10 ma nonostante tutto grazie a un campione grazie a un fenomeno il solito CR7 riesce a giustarla andiamo a analizzare un po' meglio la partita ragazzi allora il primo tempo che dire è stata più pericolosa forse la Roma non ci sono state tante azioni nel primo tempo c'è stata quella azione di Mkhitaryan che si è trovato davanti a Szczesny che lì c'è andata bene che Szczesny si dovrava non cadere subito ma c'è anche da dire che lì Mkhitaryan secondo me un po' il gol se l'è mangiato perché se uno era un po' più freddo lì davanti il gol lo prendevamo poi c'è stato l'episodio del calcio di rigore ragazzi di Rabbio a Munito giustamente braccio stralargo quindi il rigore per la Roma è netto come che poi lo trasforma infatti il rigore per la Roma è netto lo trasforma Veretout che purtroppo Szczesny la intuisce, la tocca anche la palla riesce proprio a spostarla, a mandarla, voleva mandarla fuori dalla porta invece no, la palla va sul palo interno e poi entra in rete peccato perché Szczesny l'aveva quasi presa diciamo però lì il portiere Polacco è stato molto molto sfortunato invece poi dall'altra parte azione personale di Ronaldo che si mette in proprio riesce anche lui a guadagnare un fallo di mano da parte di Luca Pellegrini anche secondo me quello lì è un rigore netto perché anche lì il braccio è staccato dal corpo quindi il rigore è netto, trasforma XS Ronaldo che spiazza completamente Mirante e fa 1 a 1 appena che succede ragazzi, appena mi ha fatto 1 a 1 siamo tutti all'attacco per fare il 2 a 1, allo sbaraglio, perdiamo palla, Roma in contropiede gol della Roma, doppietta di Veretout questi errori non vanno bene ragazzi secondo me perché sinceramente appena pareggiato tra un po' arrivava la pausa del primo tempo, cosa ti sbilanci a fare? non ha senso vabbè fatto sta che comunque poi arriva il secondo tempo ragazzi sul 2 a 1 lì veramente abbiamo rischiato veramente tanto perché sul 2 a 1 innanzitutto Dzeko prende un palo roba che se quel palo entra, la Roma va sul 3 a 1 addio giochi che fatti, la partita è chiusa siamo stati molto fortunati lì Rabiot inguenissimo a fare il secondo fallo, molto ingenuo ingenuo e si fa buttare fuori io sinceramente capisco tutto, capisco che Rabiot comunque nell'ultima parte di stagione l'anno scorso è migliorato capisco McKennie che è nuovo, ha giocato molto bene col Doria un po' meno stasera però Pirlo, un consiglio te lo devo dare hai Bentancur in panchina che era il miglior centrocampista dell'anno scorso e hai comunque Artur che è stato l'acquisto più pagato al centrocampo bisogna iniziare un po' a metterli prima questi giocatori perché infatti la Juve perdeva da 1 dopo che Rabiot è stato espulso, entrato Bentancur e entrato Artur con Douglas Costa la partita un po' è cambiata un po' è cambiata e si è riuscito a pareggiare perché secondo me Artur e Bentancur devono giocare titolari sì, sacrifichi Rabiot, Rabiot ci può stare come panchinaro Rabiot per me non è un titolare ragazzi, Rabiot non è un fenomeno almeno non titolare dal centrocampo di Juve quindi per me Rabiot può stare in panchina tranquillamente Artur può giocare al posto suo McKennie è forte però se devo avere una garanzia ora come ho visto che il McKennie è nuovo prefisco mettere Bentancur che so già le sue qualità so già che è forte perché ragazzi ricordiamoci Bentancur è stato il miglior centrocampista l'anno scorso quindi Bentancur non puoi lasciare in panchina anche lì ultima cosa stasera veramente io che lo critico sempre mi è piaciuto veramente tanto Danilo Danilo stasera ha difeso bene sia nel reparto difensivo e anche nel reparto offensivo quando c'era da spingere spingeva infatti poi l'assist del 2-2 di Ronaldo lo ha fatto Danilo un cross pennellato perfetto sulla testa di Ronaldo che Ronaldo come al solito salta e sembra che stia in aria per due secondi e la butta dentro quindi ripeto ragazzi fa il 2-2 quindi Danilo anche un'ottima partita di lui ottima partita per Danilo niente ragazzi io questo punto molto ingostretto sì noi vogliamo sempre vincere ma per come si è incalata la partita meno male che c'è stato questo punto che a Roma comunque non è mai scontrato vincere ripeto ora testa al Napoli settimana prossima e migliori in campo comunque secondo me sempre Ronaldo quando deve essere presente è presente sicuramente stasera ha mancato anche Di Bala Di Bala appena tornerà fa differenza perché comunque anche lui da gioco da tanto gioco e niente ragazzi comunque se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like commentate se vi va voi i ventini fatemi sapere cosa ne avete pensato di questa Juve se siete d'accordo con me sui cambi a centro campo che magari bisogna avrebbero più spazio a Arthur e Bentancur e fatemi sapere invece voi romanisti immagino un po' la mano in bocca perché giocando anche un uomo in più ed eravate immaginato di 2-1 scommetto che comunque qualcosa è andato storto e non siete riusciti a portare a casa i tre punti quindi fatemi sapere anche voi cosa ne è andato stasera e soprattutto ragazzi mi raccomando se il video è piaciuto iscrivetevi anche al canale qui da Lai Bianconi è tutto bella fino alla fine forza Juventus